La rappresentante di lista, la band amata dal pubblico italiano, è pronta a tornare sotto i riflettori con il suo ultimo singolo, Paradiso. Questa nuova uscita promette di portare un tocco di freschezza e novità nel panorama musicale italiano. Paradiso è un brano che parla di speranza e rinascita, temi che risuonano particolarmente in questo periodo di incertezza globale. La band ha saputo infondere nel brano un senso di ottimismo e positività, creando un'atmosfera che invita all'ascolto e alla riflessione. Ma Paradiso non è solo un singolo, è l'annuncio di un tour autunnale che vedrà la rappresentante di lista esibirsi nei super club di tutta Italia. Questo tour rappresenta un'occasione imperdibile per tutti i fan della band, che avranno la possibilità di ascoltare dal vivo le canzoni del loro gruppo preferito. La rappresentante di lista ha sempre saputo distinguersi per la sua capacità di creare musica che parla al cuore delle persone. Con Paradiso, la band sembra essere pronta a confermare questa sua peculiarità, proponendo un brano che, siamo certi, saprà conquistare il pubblico. In attesa del tour autunnale, non ci resta che ascoltare Paradiso e lasciarci trasportare dalle note di questa nuova canzone. La rappresentante di lista è tornata e sembra più pronta che mai a rovinare la festa, in senso buono ovviamente. E voi cosa ne pensate? Grazie per essere arrivati fin qui. Vi invito anche a seguire tutti i social di audiofollia.it, a lasciare un like e un commento. Qualora abbiate necessità di produzioni musicali, arrangiamenti, mix e mastering, trascrizioni spartiti, idee regalo digitali per ogni occasione, come canzoni inedite su commissione o vignette, potete scrivere attraverso la sezione Contatti del sito audiofollia.it. Se vuoi sostenere i miei progetti, troverai un pulsante donazione Paypal all'interno delle info nel canale YouTube, sarà estremamente gradito il tuo contributo. Grazie e alla prossima!